Sarà fatta una discriminazione, direttore. Noi siamo delusi, siamo delusi, siamo arrabbiati, perché non è giusto. Sono nell'antica pizzeria da Michele, sono con Alessandro Condurro, che non potrà riaprire la storica pizzeria, assolutamente, mentre le pizze, come vedete, continuano a essere sfornate, perché c'è l'asporto, c'è il delivery. Lì, Alessandro, però, è una limitazione. Un ristorante su tre non aprirà con i tavolini fuori. Sarà fatta una discriminazione, direttore. Noi siamo delusi, siamo delusi, siamo arrabbiati, perché non è giusto. Ecco, perché in base alla normativa precedente, fino a un mese fa, in zona gialla, potevamo stare aperti anche noi all'interno, addirittura con un metro di distanziamento. Adesso, invece, praticamente, ahimè, nonostante sia zona gialla, dobbiamo stare chiusi e dobbiamo vedere gli altri che aprono. Per carità, in bocca al lupo, a coloro i quali dispongono di uno spazio esterno, praticamente, che sia, diciamo, l'inizio di una lenta, diciamo, ripresa, ma che sia praticamente ripresa. Noi ci auguriamo soltanto che non chiudano più. Noi ci sentiamo un tantinello penalizzati. Ecco, devo dire la verità, perché non è giusto, perché ci hanno fatto investire dei soldi, abbiamo cambiato i condizionatori, abbiamo comprato i dispositivi, abbiamo sanificato, per poi dirci che all'interno è pericoloso. E alla fine, perché ci avete fatto fare tutto questo? Speriamo, in un minimo di buonsenso, da parte delle amministrazioni, speriamo che da qui a 15 giorni ci possano consentire, sulla base di quelli che sono i riscontri medici, di aprire anche noi. Voi non avete fatto richiesta per aprire anche all'esterno, con dei tavolini all'esterno, vero? Non abbiamo fatto richiesta perché non disponiamo ai medi spazi esterni, abbiamo 50 cm di marcia a piede, quindi è impossibile. Due metri questa cosa ci penalizzerebbe non poco, perché un metro appunto ti riduce la capacità almeno di un terzo. Due metri significa mettere due tavoli in ogni stanza. Io mi auguro, faccio veramente appello al buonsenso di coloro i quali dovranno emettere praticamente queste leggi e fare questi regolamenti. Un appello al buonsenso, certamente, è tenere presente quello che è l'andamento della curva dei vaccini, la curva praticamente dei contagi, però tenere presente anche che c'è una parte del Paese che è un anno e mezzo che è ferma e la parte del Paese è trainante in questo momento della città di Napoli. Quindi non si può, bisogna permettere alle attività ristorative di riprendere, in sicurezza sicuramente però di riprendere.